Antone Catalfamo, debutato alla Regione, sicuramente era un sogno per te che hai iniziato questo percorso da tempo, hai costruito questa candidatura e adesso puoi gioire per un'affermazione che certamente premia tutti gli sforzi di questi mesi e di questi anni. Beh sì, diciamo che lavoriamo da due anni a questo progetto, ci credevamo davvero tanto, è anche vero che abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo momento ma siamo veramente orgogliosi di aver ottenuto questo risultato in maniera, posso dire, pulita tramite i contenuti, tramite una campagna elettorale di cui vado fiero e sono orgoglioso di averla condotta in questo modo e ho avuto tante manifestazioni di stima da parte delle persone e che ringrazio 4.238 volte e anche quelli che non ci hanno votato perché molti effettivamente anche da altri schieramenti si sono complimentati per quello che abbiamo fatto in questi mesi. È stata una giornata campana, ieri tanta sofferenza, notizie contrastanti, poi alla fine la gioia a tarda sera ha tolto tutti i dubbi rispetto alla vittoria di questo percorso. Ne parlavamo stamattina con qualche amico e dicevo che è stata una giornata indimenticabile sulla quale si potrebbe scrivere un libro e girare un film perché inizialmente alle 3 del pomeriggio eravamo al 4.4 regionale, poi siamo piano piano ritornati oltre il 5, dopodiché si è creato il problema dei resti, del calcolo dei resti e all'ultima incollatura, proprio con le ultime sezioni, siamo riusciti a dare il colpo di Reni decisivo e insomma siamo contenti, siamo molto contenti. Sicuramente sono state tante le sorprese, tante le novità, tu sei una di queste ma anche tante sorprese tra virgolette negative. Un cambio importante anche di rappresentanza di questa provincia, voluto dalla gente e anche stimolato dal vostro lavoro? Intanto dobbiamo sottolineare, ma questo era prevedibile, che le persone hanno voluto segnare una netta distinzione rispetto agli ultimi anni di amministrazione regionale, che non ha portato dati alla mano i risultati sperati. Grande soddisfazione per questo modello Sicilia, con un centrodestra unito che spero possa essere replicato anche alle nazionali. Non ho nulla di personale contro chi crede nel Movimento 5 Stelle, ma ritengo che in questo momento la Sicilia avesse bisogno di un amministratore esperto e credo che in questo momento Musumeci fosse la persona giusta al momento giusto. Dovrà comunque Musumeci, nell'ambito di un lavoro di coalizione, trovare anche una quadra rispetto a tante situazioni che hanno visto attaccare, soprattutto per alcuni candidati che avevano delle situazioni particolari. Ecco, su questo punto bisognerà lavorare tutti quanti per dare forza al suo progetto? Diciamo che noi siamo pronti a dare appoggio al programma di coalizione, ho detto al Presidente Musumeci quando è venuto qua che avrà in me appoggio massimo, ma anche massima vigilanza per quelle che sono le problematiche maggiori che attengono al nostro comprensorio. Primo fra tutti mi permetto di ricordare il problema della sanità che dalle nostre parti è spinoso, su questo ci siamo battuti in tempi meno sospetti già come associazione e continueremo a vigilare, a proporre, cercheremo con tutte le forze di alleviare questi disagi che in questo momento sono enormi. Proprio questo è un aspetto di cui volevo chiedere direttamente, sicuramente la questione ospedale a Barcellona è una questione centrale, sappiamo che sono state fatte delle scelte, come potete provare voi rappresentanti di Barcellona a salvare il salvabile, possiamo dire così, cercare di ridare dignità a questa struttura? Ripeto, ho già avuto modo di interloquire con Musumeci in campagna elettorale, ovviamente le dinamiche erano tali da non permettere un approfondimento di questa tematica. Purtroppo per tanti anni si è fatta la sanità sulla base dei freddi numeri, soprattutto in tempi di spending review, tuttavia è chiaro che il comprensorio lancia un allarme continuo per l'inadeguatezza della rimodulazione, così per come è stata pensata e realizzata, vedremo se sarà possibile, facendo presente quelle che sono le necessità di questo comprensorio, cercare di cambiare, almeno parzialmente, quella che è l'idea che si sta concretizzando, perlomeno, ripeto e lo dico da mesi, per quello che riguarda l'emergenza urgenza, che deve essere garantita. Qualche altro obiettivo che ti poni in questa fase iniziale, con il primo pensiero che hai rispetto a questo territorio? Due obiettivi fondamentalmente, uno a livello programmatico, che è un po' il light motive di questa campagna elettorale, ovvero sia il problema occupazionale, specie per i giovani che vanno via da questa terra in maniera sempre più numerosa, abbiamo puntato molto su quelle che sono le vocazioni della nostra economia, che devono essere rilanciate, il turismo, abbiamo puntato molto sul discorso delle imprese, che devono essere aiutate, questo deve essere un tormentone, deve essere il nostro continuo obiettivo. E un altro obiettivo che noi vogliamo portare avanti è quello di rimanere in contatto con le persone, quindi voglio approfitto di questa intervista per dire che è intenzione nostra tenere aperta questa sede, o comunque una sede, per fare segreteria o comunque per parlare, continuare a parlare con la nostra gente e con tutti quelli che magari ci hanno guardato con simpatia e che ancora non si sono avvicinati e per i quali noi siamo apertissimi affinché si possano avvicinare per crescere tutti quanti assieme. In fine una domanda, ecco, cosa ti aspetti della prima seduta in Aura a Palazzo d'Orleanio? Quali sono le due aspettative? Mi aspetto di essere molto emozionato, come è giusto che sia, non capita tutti i giorni e insomma ancora devo pensarci, devo dire la verità perché da ieri sera a oggi ho avuto tantissime telefonate di amici, non ho ancora avuto modo di sedermi dieci minuti da solo a metabolizzare e a pensare a quello che potrà succedere. Mi sentirò sicuramente emozionato e penso che me lo possiate concedere questo.